Sono da poco arrivata sulla serra, vedo molte cose, ad esempio vedo tanti cespugli in mezzo alla natura. Vedo anche tanti alberi, la maggior parte ulivi. Molti alberi sono morti a causa della xylella, una brutta malattia. Sento il fruscio degli alberi e dei cespugli e vedo svolazzare qualche dente di reone in aria. Vorrei che intorno a me ci fossero alberi vivi, niente xylella e niente inquinamento. Quindi basta solo un gesto per migliorare la nostra vita e quella degli altri. Grazie a tutti.